Brave and Beautiful, anticipazioni puntate turche, Koran perde la vita. A Brave and Beautiful, nelle puntate destinate ad essere quelle che concluderanno la soap, ci sarà un colpo di scena dietro l'altro. In particolar modo, Riza cercherà di fare davvero il possibile per attuare la sua vendetta contro Tassin e i Korludad in generale. Tutto questo accadrà proprio mentre Tassin deciderà di fare un passo indietro e allearsi con Cesur. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate turche, Tassin racconta la verità a Cesur. Nel corso delle puntate turche di Brave and Beautiful, inaspettatamente Tassin passa dalla parte di Cesur. Dopo essersi reso conto, infatti, che Riza sta mettendo in pericolo la sua stessa figlia Swan, Korludad decide di allearsi con Cesur. Per questo motivo, l'uomo racconta finalmente ad Alendaro Blu tutta la verità che lui aspettava da tempo di conoscere. Tassin svela che suo padre Hasan era stato adottato dal ricco Musafer e sua moglie. I due coniugi avevano, infatti, adottato Tassin, ma successivamente erano apparsi preoccupati dal comportamento bizzarro e aggressivo del bambino. Per questo motivo, avevano deciso di riportare Tassin in orfanotrofio e adottare Hasan. Da questo era nata la loro rivalità e da qui si spiega il motivo per cui Tassin abbia, in un certo senso, assunto l'identità di Hasan. Nel frattempo Riza continua a portare avanti i suoi terribili piani contro la famiglia Korludag. Per farlo, Riza si precipita a casa di Banu e la aggredisce, sequestrando il suo bambino. Il perfido uomo gli dice che non lo restituerà finché lei non gli porterà Cesur. Spaventata, Banu è comunque consapevole che ci sono delle telecamere che osserva sia Cesur sia lo stesso procuratore, decide di stare al gioco. Purtroppo, però, anche in questo caso le cose non vanno come programmato. Riza, in ogni caso, ignora che Turan è stato arrestato e ha confessato ogni dettaglio delle loro mosse passate. Anticipazioni brave and beautiful, puntate turche. Riza toglie la vita a Koran. Banu, Cesur e Swan portano avanti un piano, con l'aiuto del procuratore Serat. L'obiettivo è quello di tendere una trappola a Riza, per poterlo finalmente fermare e arrestare. In realtà, però, come sempre, Riza si comporta in maniera crudele ed inaspettata, anticipando le mosse dei suoi nemici. Il terribile uomo non si presenta all'appuntamento fissato da Banu, per farlo finire in trappola. Riza, quindi, si reca direttamente a casa di Cesur, dove sta per concludere il suo piano più terribile. Nel tentativo di andare ad aggredire Swan, Riza toglie la vita a due guardie di sicurezza, durante una sparatoria, che Cesur aveva assunto, proprio per evitare che succedesse qualcosa di tragico, alla Corludag. Successivamente è Koran, tra i presenti, a proteggere Swan. L'uomo cerca di fare il possibile per impedire a Riza di entrare in casa, e fare del male a sua sorella, ma anche in questo caso senza risultato. Riza riesce a sparare anche a Koran, assassinandolo. Uno dei protagonisti, così, esce definitivamente di scena. Riza riesce ad introdursi a casa di Cesur e sequestra Swan, che è in procinto di partorire, portandola via. La Corludag è terrorizzata, oltre che disperata dopo essersi resa conto che anche il suo amato fratello ha perso la vita. Cesur nel frattempo, è molto preoccupato ed insieme a Tassin, cerca di fare il possibile per salvare Swan, e trovare Riza. Alla fine, la Corludag viene effettivamente liberata, ma le cose non vanno per il verso giusto. La ragazza è in coma oltre ad essere in procinto di partorire, e potrebbe perdere la vita. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettate un lieto fine per questa sop, e vi dispiace per la morte di Koran? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.